Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. Il Napoli contro la Juve Stabia deve rinunciare a Vilardi per infortunio. Il talento più puro dell'Under 15 di Sorano salterà anche il raduno della nazionale di categoria. Al secondo minuto di giulio si complica la vita sugli sviluppi di un retropassaggio e affossa miele pronto a far gol a porta vuota. Sarebbe rigore ed espulsione ma l'arbitro lascia correre. Al decimo la Juve Stabia attacca a destra con caro preso che va al cross. Jovino smanaccia per evitare pericoli. Al tredicesimo De Julio perde il pallone in uscita alta. Si innesca un batti e ribatti in aria concluso da un tiro di Davino contratto dalla difesa della Juve Stabia. Al ventiseiesimo la Juve Stabia sfonda ancora a destra. Di serio lavora da centravanti di manovra. Col tacco apre il campo a Saviano fermato da Jovino con un'ottima uscita di piede. Al trentatresimo il Napoli sblocca la partita. Calcio di punizione di Milo dalla destra. Stacca Davino tutto solo in area di rigore e batte De Julio. Al trentacinquesimo Davino fa addirittura doppietta. Il Napoli va ancora a segno su palla inattiva, stavolta da un calcio d'angolo. De Julio smanaccia, Solmonte la tocca e Davino scaraventa il pallone in rete. La Juve Stabia protesta per un presunto fuorigioco. Inizia la ripresa e il Napoli fa subito 3-0. Azione di Visconti che determina il fallo di mano di Fravola. Dal dischetto va Solmonte, De Julio intuisce la traiettoria ma non ci arriva. Al quarto la Juve Stabia prova a reagire. Di serio attacca la profondità, Jovino lo atterra fuori aria. L'arbitro la ammonisce, evita l'espulsione perché il numero 9 della Juve Stabia andava verso l'esterno e quindi non è considerabile chiara occasione da gol. All'ottavo il Napoli sfiora il poker. Solmonte si libera di caro preso e va al tiro che si stampa sul palo. All'undicesimo Milo attacca sulla corsia sinistra. Serve a centro area Di Lauro che batte De Julio. Il portiere della Juve Stabia riesce solo a toccare il pallone che si insacca alle sue spalle. Il Napoli va sul 4-0 ma la Juve Stabia non molla. Al tredicesimo di serio, dopo un contatto con Manzo, cade a terra. L'arbitro lascia correre e Jovino blocca il pallone. Al quindicesimo il Napoli attacca con Lorenzo Russo. Il suo tiro è ribattuto. Ci prova Milo. Colpo di Regni di De Julio che devia il pallone sul palo. La cinquina arriva un minuto dopo. Cross dalla sinistra. Sponda di Solmonte. Deviazione decisiva di Miele nell'area piccola. Il finale di gara è condizionato dal diluvio che si abbatte sul Kennedy. Il Napoli ha anche la palla del 6-0 ma Vigliotti la spreca calciando a lato su cross di Cuciniello. Il Napoli allunga sul Frosinone che ha pareggiato contro la Salernitana e continuerà la sua cavalcata domenica prossima sul campo del Pescara primo a punteggio pieno e con una partita in meno.